Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione della nuova Tipo e della nuova Panda e poi non è molto che ci siamo visti l'ultima volta eravamo a casa nostra eravamo a Lingotto per l'esattezza a Casa 500 che è l'unica casa di Torino con un accesso diretto alla mitica pista con la parabolica dove avete guidato la nuova 500 elettrica e meno male che Fiat non lancia mai nuovi prodotti perché bisogna dire che il 2020 dimostra proprio il contrario ovvio abbiamo iniziato dai segmenti che già dominiamo ve lo ricorderete era a febbraio eravamo a Bologna e vi abbiamo presentato le nuove Panda e 500 Hybrid le due vetture leader del segmento delle piccole cittadine sia in Italia che in Europa subito dopo si è aggiunta la nuova Lancia Y-Eco Chic che è leader del segmento B in Italia e che vi abbiamo presentato a maggio tutte con una nuova soluzione come dire semplice, poco costosa ma con tutti i vantaggi dell'ibrido e quindi anche di grande successo guardate qua volevamo prenderci la leadership di questo segmento di mercato e ci siamo riusciti con oltre 100.000 unità vendute poi Olivier François insieme a tutto il team ha lanciato la nuova 500 tutta nuova tutta elettrica solo elettrica sempre connessa nuovo sistema di infotainment livello 2 di guida autonoma tre body cabrio berline 3 più 1 e tre allestimenti e allora dalla pista dell'ingotto la nuova 500 è finalmente partita per il suo viaggio per raggiungere tutte le concessionarie europee ora vi do un numero importante pensate che entro la fine del 2021 avremo ben 60% di vetture elettrificate nel totale auto di Fiat anche meglio della media di mercato ma non si diceva che Fiat era rimasta un po' indietro ma a parte le battute dicevamo che il 2020 è stato l'anno di Fiat e visto che l'anno non è ancora finito oggi voglio andare ancora avanti nel nostro piano di rinnovamento della gamma allora se da un lato e questo lo sanno tutti Fiat è molto forte ed è il marchio leader nelle piccole cittadine dovete sapere che Fiat è anche la marca tradizionalmente più riconosciuta come auto per la famiglia guardate questa chart è molto semplice le Fiat sono scelte dalle famiglie molto di più della media di tutte le altre auto quindi auto per città e auto per la famiglia auto come dire per rendere più semplice e piacevole la nostra vita quotidiana noi le chiamiamo le Fiat funzionali e ce ne sono state tante nella nostra storia auto di successo sia in Italia ma anche in Europa pensate alla ritmo pensate alla croma la multipla oppure anche a tutte quelle che sono state auto dell'anno la 1 nel 1984 la Tipo nell'89 o la Punto nel 1993 sono tutte vetture di successo per la loro funzionalità per la versatilità e per la capacità di rispondere alle nostre esigenze quotidiane in più tutte al prezzo giusto che è esattamente quello che la gente vuole e allora se per presentarvi la nuova 500 vi abbiamo fatto venire a casa nostra oggi per presentarvi le novità della nostra famiglia funzionale veniamo noi da voi veniamo a casa vostra a casa della gente che incontriamo nella vita normale quella a cui speriamo tutti di tornare molto presto allora la famiglia funzionale di Fiat nasce con Panda era il 1980 e sì perché quest'anno la nostra Fiat Panda compie 40 anni pensate quasi 8 milioni di unità vendute leader in Europa nel suo segmento è il leader assoluto in Italia dove peraltro è l'auto più venduta del mercato è quella che quest'anno cresce di più e che ha fatto la quota più alta della sua storia tipo nasce un po' con la stessa grande sostanza e concretezza di Panda ma aggiunge ancora più versatilità più spazio e anche un upgrade di tecnologia e di sicurezza e infatti dal 2016 i nostri clienti la premiano con oltre 700 mila unità vendute è leader storica nel mercato domestico e pensate il 75% dei suoi volumi vanno fuori dall'Italia e allora finalmente veniamo al tema di oggi oggi infatti vi presentiamo insieme la nuova tipo e la nuova Panda e ve le presentiamo insieme perché vedremo come sono cambiate come si sono evolute per rispondere alle nuove esigenze di mobilità ma non della mobilità del futuro no oggi parliamo di come le persone le famiglie i ragazzi usano le loro vetture oggi parliamo di una mobilità molto concreta molto reale la mobilità di tutti i giorni insomma la nostra mobilità bene allora da dove iniziamo direi che prima di tutto scegliere è molto facile da oggi infatti Panda e Tipo hanno tre allestimenti ognuno specializzato su una missione ben precisa life per chi vive intensamente la città sport per chi ha uno stile di vita più dinamico e cross per chi usa l'auto anche per le avventure outdoor allora andiamo a vedere tutte le novità ma soprattutto andiamo a conoscere i miei vicini di casa ed iniziamo da chi affronta la città tutti i giorni allora io vado e passo dal vivaglio a prendere le piante e il terriccio per la mia domenica in tarrazzo e mentre torno faccio un giro in centro così ritiro la spesa e viene anche tu non ci penso proprio che fai prendi la panda? sì così posso entrare gratis nella ZTL e devo fare benzina? no l'ho fatta io l'altra settimana allora garantito devo fare benzina no caro è ibrida consuma così poco e senti le chiavi ce le hai tu? no sono lì nell'ingresso dove sono sempre no lì non ci sono notizie di tuo figlio? nostro figlio si è innamorato della mia nuova banda e mi sa che anche questa volta te l'ha fregata grazie a tutti allora capiamo perché Anna e Marco hanno scelto una panda City Life beh prima di tutto perché è perfetta per muoversi in città le dimensioni giuste per parcheggiarlo ovunque e per muoversi velocemente nel traffico soprattutto per chi è attento all'ambiente e ai costi la puoi scegliere ibrida benzina metano o GPL e poi pare che anche Matteo la prenda sempre molto volentieri perché probabilmente si è innamorato del suo design guardate guardate che bello il nuovo frontale i nuovi cerchi style da 15 pollici le nuove calotte specchi e le barre sul tetto allora questa è la nuova panda life ma a volte anche in città c'è bisogno di più spazio vediamo Paolo ti ricordi dove ho infilato il cappottino di Paco? l'ho messo via a marzo non lo trovo più hai guardato nello sgabuzzino ti trovo le scatole di carta di solito si trova lì come per magia trovato allora io vado vai dove? vado al parco col cane poi a fare la spesa e a prendere i mobili per il mio nuovo ufficio lo sai che esistono le consegne a domicilio poi macchina non ci starà mai tutta quella roba nella mia tipo ci sta di tutto e di più stai tranquilla anche Paco scommetti accetto la scommessa ma tu ti metti un paio di scarpe e vieni con noi così almeno ci aiuti a mettere tutto nel portabagagli guido io però andiamo dai grazie a tutti Allora Paolo e Claudia sono proprio i miei vicini preferiti, loro avevano già una Tipo e ne hanno presa una nuova, questa volta è la nuova Tipo Life Station Wagon o la scelta Paco, chissà, le analisi di mercato proprio non lo dicono. In realtà Paolo ha un'auto aziendale, può scegliere trattante, ma per lui è importante la versatilità degli interni, è importante lo spazio e la capacità del bagagliaio e qui la nuova Tipo è davvero imbattibile. E poi ha anche un design più dinamico e più elegante con nuovi paraurti, nuovi cerchi, nuovi colori e nuovo il logo Fiat. Allora se la nuova 500 si caratterizza per il logo 500 davanti e il logo Fiat dietro, la nuova Tipo è la prima auto ad avere il logo Fiat in lettere sul frontale e lo avete capito, questo sarà il nostro modo per il futuro di caratterizzare le due famiglie di prodotto. Guardate, è nuova fuori ma è nuova anche dentro con il nuovo volante sportivo più ergonomico, è nuova la plancia, i comandi e soprattutto il nuovo cluster digitale TFT da 7 pollici totalmente configurabile. Ma per guidare in città tutta la gamma Tipo non ha compromessi su tutto quello che serve per stare comodi e per guidare sicuri come il wireless charger per ricaricare velocemente il telefono, il keyless entry go per salire in macchina e partire senza mai dover tirare fuori la chiave dalle tasche e i sensori di parcheggio e poi tutti gli ADAS di ultima generazione per riconoscere i segnali stradali, per mantenere la velocità corretta, per stare al centro della corsia, per vedere anche negli angoli ciechi e avvisarti quando è il momento di fare una pausa. E quindi è chiaro che Panda e Tipo sono perfette per chi vive in città ma anche per chi ama una vita un po' più diciamo dinamica e attiva. E' la corsa oggi? 11 chilometri, 55 minuti, fa vedere? 5.02, gran bel ritmo, questo l'ho posto. Ciao Dani! Ma io bene, anzi no benissimo, mi sono appena fatto una corsa al parco. No ma no no no, ero lì in macchina, mi è arrivata la nuova Panda. Sì, una bellissima Panda. Ho comprato la prima Panda della mia vita. Non ci credi? Aspetta, te lo faccio vedere, l'ho parcheggiata qua sotto, guarda. Ma che spettacolo, è la nuova Panda Sport, sembra fatta apposta per me. Ah no, è un grigio opaco, fichissimo, ma la cosa più figa è che ti connetti al touchscreen, non tocchi più il telefono, fai tutto con le mani sul volante. Dai va bene, mi sbrigo, faccio una doccia, esco subito e ti chiamo dalla macchina. Va bene, ciao! E quindi la nuova Panda Sport è la Panda che prima non c'era. Alessio, infatti, è un cliente nuovo, devo ammettere che a Panda non aveva mai pensato perché si ha sempre guidato vetture piccole, ma tutte avevano uno stile grintoso e sportiveggiante. Ma quando gli ho portato la nuova Panda Sport sotto casa, l'ha comprata subito e ora non se ne stacca più. Questa è la Panda che vuole esaltare il lato fan del Functional e secondo me il nuovo colore scelto da Alessio, questo grigio opaco è davvero perfetto per quest'auto, si abbina molto bene ai dettagli in tinta carrozzeria o nero lucido. E in più, nuovi cerchi in lega da 16 pollici, nuovo logo dedicato e troviamo la stessa grinta anche all'interno della vettura, con la nuova plancia, i nuovi sedili e i nuovi pannelli. Ma la novità più bella della Panda Sport, come diceva Alessio, è il nuovo sistema di infotainment con schermo 7 pollici touch a colori, radio digitale DAB, CarPlay e Android Auto. E sì, perché Alessio vive continuamente connesso sui social, quindi per lui è perfetta perché entra in auto, mette lo smartphone nella tasca fatta apposta sopra la radio e poi può telefonare, ascoltare la sua playlist, mandare e ricevere messaggi, avere indicazioni stradali in tempo reale e molto altro ancora, ma sempre rimanendo concentrato sulla strada. Ma per chi ama le vetture con uno stile sportivo e dinamico, c'è ancora una sorpresa. E allora andiamo a casa di Lorenzo che sta per cambiare macchina. Ciao amore, com'è? No, oggi sono smart working. Ho appena finito una riunione e in attesa della prossima stavo facendo un salto sul sito Fiat, sai, per la macchina nuova. Non proprio, sto ancora cercando. E poi hai visto che è bella la nuova tipo di Paolo. Ha un sacco di spazio e mi piace proprio. Ma no, 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 è proprio bella, è diversa da quella che aveva prima, mi sembra tutta nuova. Ecco, a me piace questa. È bella grintosa. Ho già scelto anche il colore, ti mando il link. Guarda che cerchi, devi fare a led. Mi piace anche dentro. Ma figurati, mica la scelgo da solo, dai. Dai, ti aspetto e andiamo a farci un giro in concessionaria. Prima la voglio provare. E poi sai, sono ancora indeciso sul motore. C'è il nuovo benzina turbo, ma c'è anche un bel 1600 diesel che fa da 0 a 100 in meno di 10 secondi. Basta che non consumi troppo? Sì, sì. Va bene. Ti adoro. Bravo Lorenzo, hai proprio ragione. Andare in concessionaria a provare la nuova Tipo Sport è il modo migliore per apprezzare i nuovi motori della gamma Tipo. Ora infatti puoi scegliere anche il nuovo tre cilindri da 100 cavalli che è l'ultimo nato della famiglia Firefly Turbo. È un motore che abbiamo sviluppato per chi vuole prestazioni elevate, per chi vuole una guida brillante, ma anche per chi è attento ai consumi e alle emissioni. Abbiamo in più voluto calibrare il cambio per dare una guida pronta nel traffico, ma anche molto confortevole quando si viaggia in autostrada. L'altra novità è nei motori diesel. Infatti ora si può scegliere tra il 95 e il 130 cavalli. Sono entrambi Euro 6 di Final e sono migliorati sia nelle performance che nei consumi e nelle emissioni. E allora, visto che Lorenzo è attaccato a internet per guardarsi la Tipo Sport, andiamo insieme da Giorgio. Simona, Giorgio! Ciao Luca! Buongiorno! Tutto bene? Ciao Simona! Volevo chiedere a Giorgio se carichiamo sulle bici e ce ne andiamo un po' in montagna dentro al bosco. Magari vieni anche tu, no? Luca, sei arrivato tardi e Giorgio è già uscito da un pezzo. Da quando ha la Panda Cross nuova pioggia, sole, vento, neve, fa su e giù dalla casa in montagna. Si diverte con il 4x4 e me la riporta piena di fango. La mia Panda Cross. E sai che c'è? Spero torni presso, ma non per lui, ma perché la Panda serve a me. Prima la porto a lavare e poi ci vado in centro. Allora, presentare la Panda Cross non è poi molto difficile, la conoscono tutti. Io per esempio ne ho già avute tre. Vabbè che anch'io so sempre in montagna. E poi è famosa in Italia dove fa il 30% di mix, ma è anche più famosa all'estero con un mix al 40%. La scegliete voi, siti cross o cross, 4x2 o 4x4, benzina, ibrida o a metano. E la usate per andare al mare o in montagna, in bici o con gli sci in città o in vacanza. La verità è che con la Panda Cross non vi ferma mai nessuno, anche perché oggi si è fatta molto, come dire, è molto, molto sexy. Guardate qui. E inizia lo spettacolo. Guarda che bellezza. Oh sì, così prestante. E guarda che carrozzeria. Scusami, ti dispiace spostarti? Così hot. Perché siamo così attratte da Panda? Nuova Fiat Panda, sexy più che mai, conveniente come sempre. Economicali sexy, attraente anche nel prezzo. Roby? Sì, è quasi fatto. È quasi tutto pronto. Chiudo casa e scendo. E tu, il seggiolino di Alice, sei riuscito a metterlo in macchina? E perché dopo il giro la passiamo a prendere? Va bene, dai. Allora, quando arrivi lo monto io tanto è facile. La macchina nuova? È bella alta. Eh sì, è tutto più comodo. E è più comodo anche farci enterare le cose di Alice. No, Roby, te lo puoi scordare. Oggi la guido io. Allora, hai voluto la macchina nuova? Eh? E abbiamo comprato la macchina nuova. L'hai voluta per andarci in montagna a sciare. Noi abbiamo scelto una dove stanno comodi sci, snobber, scarponi e tutta quella roba lì. Eh sì, è vero. Certo che piace anche a me. Hai scelto tu anche il colore o no? Hai scelto tutto tu. C'è una cosa che posso fare io? Posso almeno guidarla? Va bene, scendo. Brava Giulia, così si fa. I russi sono una famiglia giovane, sono sempre via per il weekend e da quando c'è Alice hanno bisogno di più spazio, di comfort e anche di più versatilità. Ma hanno voluto un'auto che rispecchi la loro personalità e il loro stile di vita. E quindi per loro ci voleva proprio una tipo nuova, anzi ci voleva una nuova tipo cross. Quindi da oggi la nuova tipo è berlina, è station wagon, tutte totalmente rinnovate rispetto alla serie precedente, ma c'è anche un po' di in più ed è un vero crossover, anzi direi che è un family crossover con uno stile bello deciso, come vedete è più larga, con un bull bar prominente che le vuole dare un aspetto molto solido e muscoloso. È più alta, quasi 7 cm in più, all'assetto rialzato che serve per garantire una posizione di guida elevata come un vero crossover, ma anche per rendere più facile entrare, uscire o per esempio caricare o posizionare un seggiolino. Dentro c'è la novità più evidente ed è il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 che è stato pensato per essere utilizzato proprio come fosse un vero smartphone. Quindi è molto facile, molto intuitivo, è personalizzabile. Apple CarPlay e Android Auto sono wireless, si collegano contemporaneamente due telefoni via Bluetooth e pensate si possono creare e memorizzare fino a cinque profili diversi, così praticamente tutti in famiglia possono avere la propria interfaccia. È tutto attraverso il nuovo schermo touch da più di 10 pollici al centro della plancia che è una vera meraviglia. Allora in sintesi la nuova Tipo mantiene spazio, mantiene versatilità, grande capacità di carico, ma stavolta ci mette anche più stile con un look tutto rinnovato, ci mette più tecnologia e sicurezza con il nuovo infotainment e tutti gli ADAS inclusi e ci mette più performance con i nuovi motori, ma soprattutto ci mette un nuovo modello, la nuova Tipo Cross. E allora eccole qui, l'ibrido più democratico del mercato, il family crossover che prima non c'era. E poi lo dicevamo all'inizio, quest'anno la famiglia Fiat è diventata ancora più grande, è diventata più bella e più moderna, con nuovi modelli, nuovi motori e anche nuove tecnologie. E allora mi sembra il momento migliore, sì, per fare una bella foto di famiglia. Ma non finisce qui perché abbiamo in programma un grande 2021 pieno di novità. Vedrete, la famiglia si allargerà ancora di più. Quindi ci vediamo presto e grazie a tutti.